Incontriamo Napoli che è una buona squadra, devo dire che il Presidente insieme allo staff hanno fatto in questi anni grandi passi, hanno fatto anche i giusti investimenti. È una squadra ovviamente solida, compatta e dovremo essere molto bravi a trovare subito una nostra identità perché contro queste squadre così quadrate è molto importante rispondere con altrettanta solidità. Sarà uno dei punti fondamentali della partita, cercare di limitare quantomeno il loro talento perché in effetti sono giocatori che non si possono cancellare, ma dovremo essere molto bravi a difendere non solo individualmente ma anche di squadra perché sul loro pick and roll, sulle varie situazioni di uscite e in effetti dobbiamo cercare di essere molto preparati perché, ripeto, sarà lavoro di squadra importante non solo quello individuale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.